Ciao amici del team Carpenters, oggi ci troviamo nel fiume Sile e vogliamo affrontare una sessione pomeridiana di pesca spinning, finalmente dopo un lungo periodo di piogge insistenti il tempo oggi ci ha dato una tregua, sembrerebbe una giornata veramente splendida, per cui ne stiamo approfittando il Sile è molto alto, comunque speriamo di fare qualche cattura, oggi abbiamo deciso di approcciare questa sessione pescando io solo ed esclusivamente con testine piombate, come questa, e mentre il mio amico Stefano con cucchiaini artificiali, esatto come ad esempio lui ha il suo adesso, un Martin 15 vediamo come proseguirà il pomeriggio e speriamo di far vedere qualche bella cattura grazie a tutti 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 grazie a tutti